solo quando avrete compreso il presente cerchio firenze 77 attraverso roberto setti claudio vi saluta ricercare per conoscere se stessi e ciò che ciascuno deve fare vecchi crede che questa ricerca sia facilitata dal sapere che fumo nella precedente incarnazione ma se questo fosse perché esisterebbe la legge dell'oblio anche in chi si propone di ritrovare se stesso il sapere che fumo non è di alcun vantaggio nella ricerca di se stessi vi è stato detto più di una volta che voi siete il presente ed è questo presente che dovete conoscere non il passato a che cosa vi gioverebbe il sapere ad esempio che nella precedente incarnazione siete stato una suora supponiamo che non abbiate avuto l'animo di suora cioè non abbiate avuto la vocazione solo quando avrete compreso il presente potrete intuire il passato potrete intravedere il futuro solo quando vi sarete resi consapevoli dell'attuale vostro egoismo potrete capire quanto egoista fosta in passato e quanto meno lo sarete in futuro tutto qui voi direte io so di essere egoista già voi sapete di essere tale ma non ne siete consapevoli cioè non sapete fino a che punto l'egoismo vi spinga ad agire quali delle vostre azioni siano mosse dall'egoismo e non sapendo questo non sapete niente di voi stessi ciascuno è ora un individuo che non è lo stesso di dieci anni fa che non è lo stesso di due ore fa per questo non giova nella ricerca di se stessi il sapere chi si è stati e voi vi domanderete a che cosa serve la memoria la memoria serve per le relazioni sensibili ed è molto utile ma anche essa ha degli aspetti negativi tende ad accumulare conoscenze su conoscenze costituendo una mentalità della quale si è schiavi ciò che evolve l'individuo non sono le conoscenze tenute presenti dalla memoria come un vademecum ma sono le esperienze che operano una trasformazione dello stesso individuo supponiamo ad esempio che un tale sia ateo e che divenga credente non occorre che gli abbia un memorandum che gli indichi come pensare perché egli è divenuto credente perché se veramente è divenuto tale avrà subito una trasformazione del suo essere e penserà come un credente se riuscirete a superare l'aspetto negativo della memoria avrete mosso il primo passo per la ricerca di voi stessi pace a voi